Tu sai fare i tiri liberi meglio di me. D'accordo, è vero, non importa. Mi batti solo in quello. Sai bloccare il ventilatore con la testa? Non credo proprio. E guarda un po' qui. Il mio ghiacciolo è decisamente più lungo del tuo. Ti ho stracciato, sono assolutamente... Lisa! Oh, non importa.